A largo della Thailandia si svolgono esercitazioni aeronavali delle sei nazioni aderenti all'asseato, l'organizzazione difensiva del sud pacifico. Una parte rilevante in questa manovra solvono gli elicotteri, la cui importanza va sempre più aumentando nella moderna strategia. Dai tropici al circolo polare artico, lasciando la parola ai militari. Siamo infatti nelle foreste svedesi, dove viene collaudato con soddisfacenti risultati un nuovo tipo di lancia granate anticarro telecomandato. La Svezia è un paese tradizionalmente alieno da avventure belliche. Amante della pace, si rende conto tuttavia che essa può essere mantenuta solo con una adeguata attrezzatura difensiva. Armi come queste servono appunto a far riflettere i potenziali aggressori.